Prima Guerra d'Indipendenza, 1296-1328 La Prima Guerra d'Indipendenza iniziò con l'invasione inglese della Scozia nel 1296. Il re inglese Edoardo I cercò di sottomettere la Scozia, ma gli scozzesi resistettero. Alcuni momenti chiave di questa guerra includono, retroscena, dopo la morte del re scozzese Alessandro III nel 1286, la successione al trono divenne controversa. La nipotina di quattro anni, Margherita di Scozia, fu considerata erede. Tuttavia, la sua morte nel 1290 portò a 14 rivali per la successione. I due principali pretendenti erano Robert Bruce e John Balliol. Questa situazione portò alla guerra re Robert Bruce, nel 1306. Robert Bruce si dichiarò re di Scozia e iniziò una campagna di resistenza contro gli inglesi. La battaglia di Bannockburn nel 1314 fu una vittoria cruciale per gli scozzesi, guidati da Bruce, contro le forze inglesi. Trattato di Edimburgo-Northampton, nel 1328. La guerra terminò con la firma del Trattato di Edimburgo-Northampton, che riconobbe la Scozia come nazione indipendente e seconda guerra d'indipendenza. La seconda guerra d'indipendenza iniziò con l'invasione di Edoardo Balliol, sostenuta dall'Inghilterra, nel 1332. Questa guerra vide una serie di battaglie e trattati, culminando nel Trattato di Berwick nel 13571. Eredità e importanza Le guerre d'indipendenza scozzesi furono cruciali per la Scozia indipendenza mantenuta. Alla fine di entrambe le guerre, la Scozia mantenne il proprio status di nazione indipendente. Arco lungo Durante questi conflitti, l'uso dell'arco lungo divenne fondamentale nella guerra medievale. In sintesi, le guerre d'indipendenza scozzesi rappresentano uno dei momenti più determinanti nella storia della Scozia e la lotta. Per la sovranità contro l'Indilterra ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva degli scozzesi. Durante le guerre d'indipendenza scozzesi, alcuni dei principali leader scozzesi furono William Wallace, un eroe nazionale scozzese e uno dei principali leader durante la prima guerra d'indipendenza. Wallace guidò le forze scozzesi alla vittoria nella battaglia di Stirling Bridge nel 1297 e fu nominato guardiano di Scozia. Andrew de Moray, anche lui fu un importante comandante scozzese durante la prima guerra d'indipendenza. Robert Bruce, più tardi conosciuto come Re Roberti di Scozia, fu un altro leader chiave che guidò la Scozia alla vittoria nella battaglia di Bannockburn nel 1314 e ottenne il riconoscimento dell'indipendenza scozzese con il Trattato di Edimburgo-Northampton. John Comyn fu un rivale di Robert Bruce per il trono scozzese e giocò un ruolo significativo nei primi anni della guerra prima, della sua morte nel 13061. Sir Andrew Murray fu un altro guardiano di Scozia e un comandante militare che contribuì alla resistenza scozzese contro l'Inghilterra. Questi uomini furono figure centrali nella lotta per l'indipendenza della Scozia e sono ricordati come eroi nazionali, nel corso della storia.